Casa Sanremo Writers, siamo in compagnia di Maria Grazia Pignata, benvenuta a Casa Sanremo, ciao Maria Grazia, autrice del progetto, edizioni Il Saggio, Maria Grazia giovane autrice che arriva dalla campagna, laureata in giurisprudenza al suo esordio con questo romanzo epistolare, qualcosina più di te raccontacelo, così cominciamo a introdurre il tuo personaggio. Il mio personaggio, ecco, allora innanzitutto specifico che io sono della provincia di Salerno, precisamente di un piccolo paesino con Tursiterme, che alloggia nel mio cuore, infatti adesso vivo in Veneto, e la nostalgia mi fa pesare ancora di più la lontananza, perché io sapevo di essere molto legata al mio paesino, ma non immaginavo così tanto. E che dire, addirittura la copertina del mio libro è una fotografia scattata da una villa, che è situata a Valva, un paesino, diciamo, limitrofo, e cerco di portare le mie zone sempre con me, ovunque. Perché tu, insomma, adesso lavori in Veneto e ti occupi, lavori in una scuola, giusto, in pratica? Sì, esatto, sono assistente amministrativo al momento, chiaramente il mio sogno è sempre quello poi di vivere di scrittura, però è risaputo, non dico che sia impossibile, perché non credo lo sia, però è molto difficile, non mi arrendo, però chiaramente nel frattempo bisogna fare anche altro. Allora, Mera Grazia, hai già anticipato che tu sei autrice anche dello scatto, che è in copertina del libro, mi racconti però qualcosa di più, come è nata quella foto e perché è così importante per te? In generale c'è da dire che io sono molto appassionata di fotografia, non sono assolutamente una professionista, però mi diletto, infatti nel 2017 vinsi anche un premio organizzato dal comune di Romagnano al Monte, in cui appunto la mia fotografia vinse, una fotografia scattata in bianco e nero, aveva un suo fascino, e vinse, quindi mi fece anche sentire, come dire, apprezzata in questo campo. Allora ci tenevo a mettere una mia fotografia in copertina, così da poter definire il mio libro mio completamente, ed è scattata in un tramonto da questa villa appunto, e il tramonto rappresenta un po' anche proprio l'animo, l'animo dei personaggi, quindi questa oscurità però illuminata da questa luce tenue un po' poetica. Entriamo un pochino più nel dettaglio, andiamo un pochino più a fondo del tuo romanzo, che è un romanzo epistolare, le protagoniste sono Elettra e Isabella, che sono due donne che soffrono, insomma, dall'anima davvero, come dire, possiamo anche dire infrantumi? Esattamente, sono due donne che si ritrovano entrambe in un momento della vita molto particolare, momenti della vita diversi tra loro, quindi stanno vivendo cose completamente diverse tra loro, però accomunate da questo senso del malessere, io specifico, non dico mai il termine depressione, perché chiaramente non ho le competenze per poterla delineare, e mi limito a definirlo malessere, che accomuna un po' tutti per vari motivi, ed entrambe decidono di partecipare ad un progetto sociale che viene promosso da due genitori che hanno perso la figlia a causa di un suicidio, e hanno come obiettivo quello di evitare che altre persone possano sentirsi così sole da ritenere il suicidio una soluzione. Quindi è un libro che ha delle tematiche molto particolari e molto delicate, però ci tengo a precisare che non è un libro negativo, ci sta comunque una luce positiva che illumina tutta la narrazione, e infatti una delle prime lettrici lo ha definito un inno alla vita, e io prendo sempre in prestito questa definizione, perché ha captato il messaggio reale che io volevo condividere, e quindi questo inno alla vita, questa vita che nonostante sia completamente diversa da come l'avevamo programmata, da come l'avevamo immaginata, da come l'avevamo anche sognata, che non è detto poi debba essere solo negativa, si può sempre insomma rialzarsi, si può sempre trovare il positivo, e bisogna farlo, e cosa può aiutare a farlo? La solidarietà. Questo infatti è un libro che innalza i valori dell'amicizia, infatti attraverso queste lettere, è un romanzo epistolare come è stato detto, attraverso queste lettere nasce questa amicizia che poi permette a loro di salvarsi a vicenda, perché il calore umano fondamentalmente è sempre la risposta, è sempre la soluzione. Insomma non ci si salva da soli, come si dice in questi casi, no? Giusto? Le due protagoniste hanno bisogno dell'aiuto l'uno dell'altro in qualche modo? Sì, c'è proprio un libro della Mazzantini che se non sbaglio si intitola Nessuno si salva da solo, e penso sia il riassunto, sia la vera essenza della vita, cioè siamo un animale sociale, non dimentichiamolo ecco. Però non è un romanzo autobiografico, insomma. C'è però qualcosa di te nel personaggio di Eletrono, nel personaggio di Isabella? Io penso che ognuno di noi quando scrive inevitabilmente mette qualcosa di sé, anche senza accorgersene spesso, in ogni personaggio. Infatti non riesco a specificare o a identificarmi in uno dei due personaggi, perché in entrambe c'è molto di me, ma allo stesso tempo in entrambe c'è un mondo completamente nuovo anche per me, mentre scrivevo. Quindi nella stesura le ho conosciute anch'io. Come è nato il libro? Quanto hai impiegato a scriverlo? È stato un lavoro lungo? L'hai scritto di getto? La scrittura inizia, anzi l'idea, inizia nel 2017 a seguito di una chiacchierata con un'autrice veneta, che è Eleonora Tisi, e non posso non nominarla perché ovviamente il libro è nato da questa conversazione. La stesura è avvenuta, dico la verità, di getto, si è delineata per mesi nella mia mente, però poi in pochi giorni l'ho buttato giù, perché penso che la scrittura sia come un fiume, in piena, a volte non si può controllare, ed è per questo infatti che siccome l'ispirazione arriva nei momenti più impensabili, porto sempre con me nella borsa un'agenda in cui appunto devo segnare le idee che mi vengono in mente sia per i libri, sia per delle frasi, dei pensieri, degli aforismi, qualsiasi cosa, però ho bisogno di metterle per iscritto. E quindi insomma non il cellulare, non una nota vocale, non il computer, ma la parola scritta, insomma, carta e penna. Ammetto che spesso non ho neanche il tempo magari di andare a prendere l'agendina che ho in borsa, quindi le note del telefono sono una valida soluzione, però prediligo la scrittura a penna principalmente e poi magari quando decido di mettere insieme tutte le idee che ho raccolto mi metto al pc. Ok, però bisogna farlo subito perché se no poi non... No, sì, o anche a distanza di tempo riesci a rielaborare quello che hai, gli appunti che hai preso? No, spesso a distanza di tempo, spesso anche a distanza di tempo, infatti c'è un libro che è in lavorazione, diciamo così, e l'idea l'ho avuta molto prima di avere questa idea, paradossalmente, quindi nel corso di questi anni ho cambiato spesso magari anche dei personaggi, pian piano poi lo butterò giù per esteso. Quando è nata però la tua passione per la lettura? Da ragazzina a scuola eri già, come dire, una studente molto attiva da questo punto di vista o come in tanti casi capita, poi uno inizia a leggere quando non è obbligato dalla scuola a leggere? Allora, a dire il vero, io ho sempre letto, anche all'elementario, ad esempio leggevo Gironimo Stilton, Thea Stilton, e li ho amati in modo sproporzionato. Devo dire che invece alle superiori, quando la nostra docente di italiano, ladino e greco, che saluto, ci obbligava a leggere. I libri che lei ci obbligava li ho odiati profondamente. Magari li dovrò rileggere col tempo, da persona nuova, da persona diversa, però ammetto che le letture obbligate non mi appassionano assolutamente. Ok, invece per quanto riguarda la lettura, hai detto che ti piace la carta per la tua scrittura, ma ti piace la carta anche per leggere oppure preferisci metodi più moderni, insomma gli ebook o comunque la lettura attraverso i dispositivi device più moderni? Io sicuramente prediligo la lettura con il cartaceo, perché il cartaceo ha tutto un altro fascino. Lo sfogliare i libri, anche quando si scelgono la copertina, perché si dice sempre che il libro non si giudica dalla copertina, ma sappiamo tutti benissimo che purtroppo o per fortuna spesso è proprio la copertina che ci spinge, che ci conquista e quindi poi ci spinge a leggerlo. Quindi prediligo sicuramente il cartaceo, però devo ammettere che la lettura tramite i reader ha una certa comodità e ha un fascino che, devo dire, non voglio dire completamente conquistata, però mi ha molto avvicinata alla lettura tramite i reader, perché è oggettivamente molto comodo, sicuramente anche meno dispendioso e lo puoi portare ovunque, ha la sua comodità. Quindi devo dire, non mi sento di condannare la lettura digitale. Senti, tu sei mamma di una bimba, giusto? È un bambino, Giuseppe. È un po' dedicato anche a lui il libro? A dire il vero, no. Sai perché ti do del tu, Maurilio, ormai? Allora, non lo dedico a lui semplicemente perché il libro l'ho iniziato molto tempo prima, però sicuramente ormai è parte di me, forse era parte di me anche quando non era ancora nei miei pensieri, quindi il prossimo sarà sicuramente dedicato a lui. Ok, il prossimo è già, come dire, sei al lavoro, no? Dicevamo prima. Sì, in lavorazione sicuramente qua va specificato il bambino toglie un po' di tempo e la scrittura quindi procede in modo più lento come anche la lettura, però l'importante è sapersi ritagliare i propri momenti e le tematiche che tratterò saranno altrettanto particolari come quelle trattate in questo libro, però allo stesso tempo mi rendo conto di essere anche una persona diversa, quindi forse è anche la maternità che dà quel qualcosa in più che ti permette di trattare anche magari argomenti simili se non proprio gli stessi con una coscienza diversa. Noi qua, Maria Grazia, siamo a Sanremo e una domanda sul festival è inevitabile. Siamo nella città della musica, qual è il tuo rapporto con la musica? Ascolti musica per esempio anche quando scrivi oppure ti distrai e quindi preferisci il silenzio? Allora, la musica come l'arte in generale perché poi la musica, le parole, la scrittura, la lettura io le percepisco molto legate, molto a braccetto, non me la sento di considerarli in ambienti diversi, quindi secondo me è inevitabile dire che la musica ha sempre fatto parte della mia vita e continuerà a farlo. Io quando scrivo assolutamente devo scrivere con la musica perché poi come si dice adesso le vibes le vibes devono essere anche sostenute dalla musica che aiuta a mantenere la mente e lo stato d'animo concentrato in quel mood quindi è inevitabilmente un trasporto che accompagna poi durante tutta la stesura che può essere la stesura di un libro o la stesura di un qualsiasi testo che poi può diventare un testo musicale però la musica ha una grande importanza. A proposito allora di musica di festival c'è qualcuno degli artisti in gara che ti piace in maniera particolare qui a Sanremo? Allora questo è un messaggio che lancio Darjen D'Amico è il capitano della mia squadra al Fantasio Sanremo. Ah quindi ok quindi passione per Darjen ok sì esattamente senti chiudendo la nostra chiacchierata a chi consigliamo il tuo il progetto a chi possiamo consigliare il tuo libro? Allora il mio libro ha come protagonista come ho detto prima due donne però voglio specificare che non è un romanzo di genere non è un romanzo di donne scritto per donne i messaggi trattati alla fine si rivolgono ad un pubblico molto più vasto a chiunque abbia abbia avuto o stia ancora vivendo quei momenti di difficoltà quando quando si suol dire toccare il fondo e quando sembra che magari il fondo dopo il fondo ci sia un fondo ancora più profondo ecco chiunque abbia voglia di risalire è stata con noi Maria Grazia Pignata autrice di Il progetto edizioni Il saggio pubblicato nel 2023 grazie Maria Grazia in bocca al lupo e alla prossima Crepi grazie mille grazie a tutti